Elisa e Sofia ci portano la carica del 101! Maledetto di un demonio, e dopo il primo istante di terror, ti senti in suo potere, e crei al suo venere, gli occhi di felino predador. E ci serve essere sempre un'uman, crudele vampir, dovrebbe per sempre dal mondo sparire, che gioia allora che soddisfazione. Bruderia, Bruderia, Devo!